Ciao e benvenuta in questo allenamento cardioglutei della durata di 12 minuti. Come vedi oggi ti servirà il tappetino, fai attenzione ogni volta che andremo a terra perché eseguiremo tutti gli esercizi prima con una gamba e poi con l'altra gamba. Io sono Enrica, coach dell'Accademia Online, bella in forma per sempre l'Accademia che ti permette di seguire il tuo programma a livelli di allenamento in base alle tue esigenze. Infatti in Accademia gli allenamenti, a differenza degli allenamenti che trovi su YouTube, sono allenamenti formulati in base alle tue misure corporee, in base alle volte che ti vuoi allenare a settimana e in base al tuo vissuto motorio. Inoltre in Accademia puoi trasseguire un percorso motivazionale ed uno dedicato all'alimentazione proprio per raggiungere al meglio i tuoi obiettivi. Trovi tutte le informazioni riguardo all'Accademia sotto nel link in descrizione. Ed ora, pronta a partire! Grazie a tutti! 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 ! 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